Il'invenzione è l'arrivo di radiotelevisione Anccio tutti i genzi direttori del radiotelevisione Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 che hanno il fatto che vengono, il nostro pianeta, ci sono tutte le persone, hanno le poverso polare. Il mio avvio le persone che hanno chiesto, questi hanno chiesto usato? Si adesso non hanno chiesto io, se non ci siamo chiesti, non, insomma che il Chiasso ponte come un po' aspettiamo che siamo chiesti, attenzione è un po' freddo su questo, la verà che non è un'imagine. E' un po' di 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 più. E' un po' di 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 un Ora, un uundi umugole kukumuamara huye mwesi mkuzi. Iomutumvika, nya mataki karihugu ya ngabatando kani. Mufani, umwewe saberibli. Aujemu uzimabgiwe. Mugano naka wakuligula mkufita, mkumu huye, ichakabili. Aba wana, ukua mataki kavuga, aba wana batalakwezi mnyakini gui waja kwa mama. Aba wana walegezi mnyakini gui waja kwa ase. Ali kiyo mama wawo, abuza kwa tabushuwa uzafisi buko kubalira. Ubutunga hane, mulea shuwa kwee umirako, abubana wagumana na papa wawo. Siwa, si. Hanyuma, iyo amateke konyene achirubanza, akabuatabana ni wagumana na sechangina nyina. Amateke kaba yuwa hirijua, ukuwaruchianu konyene, utarushimila guunguruzi. Ali kwa akulikiziki, amategeku. Nuna wabana wafisi, haisi unzulietegeku. Hanyuma, kugungwa nukukubituwa nukukubitu kubuhiri, kubalabala. Aba anubabona, ibi mnyetubila hali. Nateke kukurikijuwe. Nune umba hasika iki, sukuijuwe. Uyo munu umba mwa mwagina mweshinga mateka. Ninguwa mungu owe. Azosiru kila wajagi hugu, aba ahi. Nungo kuunamezi. Kulikirana, ibi mzobuza haayakozi. Hanyuma, mumochiru muku hiri. Hanyuma nunga awona kue kumushinga mateka mwuzi mungu mwoi. Munga wanacho muzo wa muhai. Usiru kila baruni. Oya? Oya? Njimuzo wa muku likiju lagi jasogo kuru mwuruziiza. Wapi? Aliko, wako ze kuwa mgirako kizira kuivijimza ni kizinu. Kukua, naho ikizinu chivijimza. Inyuma sasa ngu kichati kibora. Nivjo. Kiyo ki, kiduga mwurika radavu. Kikabdi imba. Chivijimbije. Kiwagipuwe gichaki bora. Uyo munu ulelo nawe. Nimumuhan ule kikuivijimza ni kizinu. Kukua, numunu ya hauguzima ni imana. Agomba kubuga kwa ni imana. Nawe nareki kubuga kawandi. Kikoguwe tawandotelakaamu. Tumumotabarizi. Hawa kenyezi. Amashiramu ya wa kenyezi. Naguagizi chappu wakulibibiinu. Nekatovjumu mvizi. Kukudahana avitu waza kumenyana na mategezi. Baka chawa kora mavi. Baku nyanga kateka kazi na mwonhu. Mishinaheju ya mategeko. Bila kuiyegu hashkwa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.